A una settimana dalla firma del decreto attuativo del Porto Franco si concretizza la prima opportunità per attrarre imprese e sviluppare l'economia del territorio con 100 nuovi posti di lavoro. Così la Presidente della Regione Serracchiani ha commentato l'acquisizione da parte di Interporto di Trieste di un'area di proprietà della Varsila da 260.000 metri quadri con due capannoni, una zona in cui sarà in vigore il regime di Punto Franco. È davvero una soluzione splendida perché risolve due problemi. Intanto mette in sicurezza una volta per tutte l'attività di Varsila che sappiamo essere soggetta ad un piano industriale ma che ha portato a casa, anche grazie alla preziosa collaborazione con la Regione, dei risultati importanti. Il fatto di poter fare a Trieste dei motori ibridi ed il fatto di poter concentrare in un capannone l'attività liberandoci due capannoni, uno dei quali tra l'altro non era utilizzato già da diversi anni, che invece è adattissimo per essere utilizzato come primo luogo nel quale mettere il Punto Franco dopo il decreto attuativo del Porto Internazionale di Trieste. Importante perché ha tutte le caratteristiche per far sì che lì si possa svolgere logistica e attività industriale. I due capannoni hanno le altezze giuste e sono tra l'altro già tenuti in ottime condizioni. Hanno, e questo è importantissimo, una linea privata ferroviaria con un collegamento ad Aquilinia ed hanno la uscita autostradale dedicata. Come testimoniato dal presidente dell'Interporto, Giacomo Borruso, ci sarebbe l'interessamento di un'azienda veneta operante nella produzione di materiali ferrosi per uno dei due capannoni, con una stima di 100 nuovi posti di lavoro per il territorio. Da parte sua, il segretario generale dell'autorità di sistema portuale, Mario Sommariva, ha ricordato l'obiettivo della creazione di una forte area retroportuale alla stregua dei grandi scali del nord Europa. Per questo, ha sottolineato Sommariva, è importante aver dimostrato ai potenziali investitori che siamo stati in grado di realizzare in tempi brevi il primo nucleo di attività collegato alla logistica e al manifatturiero.